Ciao e benvenuto in Lab. Questo è il primo video dell'anno e come lo è stato per il 2018 voglio iniziarlo facendo un tour del laboratorio. Visto che sarà piuttosto veloce voglio poi raccontarti quali sono i miei obiettivi per il canale per quest'anno 2019, i progetti della prima parte dell'anno e al termine fare un po' di ringraziamenti. Sei pronto? Vamonos! Il tour sarà piuttosto veloce perché rispetto all'anno scorso non è cambiato granché, quindi se vuoi vederti come era il laboratorio un anno fa trovi il video qua tra le schede. Ok partiamo subito qua dall'entrata sul lato sinistro dove si trova il banco sega che essendo su ruote sposto poi solitamente qua al centro. Dietro di lui c'è la parete dove ripongo gli attrezzi dell'orto, morsetti molto lunghi, righe e altri accessori. Proseguendo troviamo il compressore con l'avvolgitubo e l'aspiratore che rispetto all'anno scorso aveva la ciclone separatore collegato ho deciso di toglierlo perché non mi trovavo più così bene. Dopo l'aspiratore c'è subito il banco da lavoro che se mi seguite da un po' conoscete bene perché è veramente il principe di ogni progetto. Dietro si trova la parete attrezzata che devo dire non mi piace tantissimo così com'è quindi probabilmente quest'anno cercherò di cambiarla. Al termine del banco da lavoro c'è la morsa da banco e a fianco si trova il trapano a colonna che essendo su ruote spesso sposto per lavorare con più comodità. Appena sopra il trapano a colonna c'è questa cosa che non so bene neanche come chiamare è un pensile, uno scaffale, un contenitore diciamo che però l'ho studiato veramente male perché è una scatola e basta infatti è sempre incasinata quindi sarà sicuramente oggetto di modifica quest'anno. Ok questa qui alle mie spalle è la parete finale del laboratorio dove prende posto la troncatrice con tutto il sistema per effettuare i tagli ripetuti. Sempre lungo questa parete prendono posto un sacco di contenitori che sono dei cassetti piuttosto che dei mobiletti con le antine oppure degli scaffali dove ripongo principalmente elettrutensili e ferramenta. Ora passiamo alla parete della vergogna siete pronti? Vamonos! Eccoci questa è la parete della vergogna quella che veramente faccio molta fatica a tenere ordinata e che quindi non vi faccio mai vedere nei video. Qui infatti prendono posto il banco fresa ma soprattutto degli scarti di lavorazione di pannelli cose che mi possono essere ancora utili e non so bene dove riporre qua all'interno del laboratorio. Subito dopo c'è la seganastro. La seganastro dovreste già conoscerla perché soprattutto negli ultimi video ve l'ho fatta vedere molte volte. Il mobiletto dove sono seduto invece è un contenitore dove ripongo cose per l'orto e qua sopra c'è una scaffalatura per depositare un po' di assi di legno che mi possono essere utili nei prossimi progetti. Quest'anno come puoi vedere sotto i miei piedi ho rifatto l'intera pavimentazione. Prima avevo un suolo molto disconnesso che non mi facilitava assolutamente lo spostamento dei macchinari o delle altre cose che ho su ruote. Inoltre anche la parte della pulizia era molto più dispendiosa perché si accumulava tutta la polvere e segatura. Per farlo ho utilizzato dei pannelli di trucciolare laminato che ho recuperato da vecchie cucine armadi che andavano buttati. Tour del laboratorio completato passiamo agli obiettivi per quest'anno. Partiamo dalla premessa che non so né se avverrà né quando avverrà lo spostamento ad un nuovo laboratorio che avevo anticipato tempo fa. Infatti il proprietario non mi dà sufficienti garanzie per pensare di fare questo spostamento a breve. Quindi la mia idea per quest'anno è sicuramente potenziare lo spazio che ho ora che è questo laboratorio e che ha dei margini di miglioramento. Voglio ad esempio dotarmi di nuove attrezzature oppure sostituirne altre che ho già ma con qualcosa di più professionale. La priorità è sicuramente la pialla filo spessore che è un attrezzo secondo me fondamentale per la lavorazione del legno e della quale sento veramente la mancanza. Sicuramente infatti mi permetterebbe di lavorare molto meglio il legno massello cosa che sono riuscito a fare negli ultimi video grazie a una fresa livellatrice che mi ha permesso di avere del materiale più o meno squadrato anche se in realtà questa non pialla maspiana. Subito dopo in ordine di priorità c'è il banco sega che vorrei cambiare perché inizia veramente a starmi molto stretto come ti dicevo nel video specifico che ho fatto che trovi qua tra le schede. Al terzo posto c'è il banco fresa ne ho uno veramente veloce e semplice da realizzare trovi il video qua tra le schede che monto sul banco da lavoro e occupa veramente poco spazio. Il problema è che è adatto a piccoli lavoretti e appena chiedo qualcosa di più faccio fatica. Queste sono le prime tre attrezzature di cui mi vorrei dotare quest'anno per riuscire ad ampliare le mie lavorazioni. Ovviamente lo spazio è sempre questo quindi ora non ci starebbero all'interno del laboratorio. Devo trovare il modo di ottimizzare gli spazi e anche liberarne alcuni. Tra le prime idee che mi sono venute c'è quella di realizzare un baule da lasciare fuori in giardino dove riporre tutte le attrezzature e i materiali che utilizzo per l'orto. In questo modo libererei parte della parete qui vicino al banco sega e anche il mobile contenitore dove c'è solo cosa dell'orto. Un'altra idea che mi è venuta che va a sacrificare molto la lavorazione con la troncatrice è il fatto di liberare completamente quella zona quindi spostare via tutti i contenitori, tenere la troncatrice mobile quindi spostarla sul banco da lavoro all'occasione quando mi serve ma lì non avere niente. Avere quindi uno spazio completamente libero dove riporre ad esempio la seganastro, il banco fresa e tutto quello che mi serve. In questo modo ricaverei veramente molto spazio. perché si tratta di tutta la lunghezza della parete che sono 3,20 metri per una profondità di 50 centimetri. Terza idea che mi è venuta per riuscire ad ottimizzare gli spazi è quella di cambiare il banco da lavoro che ora misura un metro e ottanta per 80 centimetri di profondità, realizzarne uno nuovo magari anche un banco da falegname di dimensioni più contenute un metro e quaranta di larghezza per 60 di profondità. Questo tra l'altro sarà veramente un gran bel progetto di quest'anno che mi permetterà anche di estendere le funzionalità che il banco che ho adesso non ha. Quarta ed ultima idea che devo ancora capire bene come mettere in pratica è quella di poter sfruttare il portone del garage. Mi piacerebbe riuscire a utilizzarlo per riporre ad esempio i jig quindi qualcosa di leggero ma che porta via spazio. Anche tu hai visto come è fatto il mio laboratorio quindi se hai dei consigli da darmi in questo senso per ottimizzare gli spazi scrivilo qua sotto. Sempre tra gli obiettivi del 2019 oltre a questa parte di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi ci sono alcuni video che vorrei proporvi. Sicuramente un video dedicato alle frese e probabilmente anche più di un video visto che l'argomento è molto vasto e anzi colgo l'occasione per chiederti se hai delle cose che vuoi sapere su questo argomento scrivile qua sotto che potrebbero essermi utili quando vado a programmare questo video. Ho anche in mente un progetto che riguarda un jig multifunzione da applicare alla fresatrice che è in via di sviluppo. Come è stato per il 2018 voglio portare poi dei contenuti particolari che ho realizzato in collaborazione con alcune aziende che reputo di qualità e che seleziono tra tutte le richieste che mi vengono inviate. E quindi questi sono gli obiettivi e le priorità del 2019. Ho voluto condividere con tutti voi perché sono sicuro che tra i commenti potrete darmi anche qualche altro buono spunto. Prima di chiudere il video voglio però ringraziare tutti gli iscritti al canale che ogni settimana trovano il tempo di guardare il mio video. Siete stati veramente la benzina che l'anno scorso mi ha dato la forza di creare contenuti anche perché ci stiamo avvicinando a gran passo ai 20.000 iscritti ed è un traguardo di cui vado molto orgoglioso. Quest'anno quindi riparto da qui continuando a condividere quello che faccio all'interno del laboratorio e spero che sarete ancora con me in questa bellissima avventura. Per oggi è tutto noi ci vediamo freddo permettendo la settimana prossima. Qua ti lascio i due migliori video che secondo me ho realizzato l'anno scorso e se non è ancora fatto iscriviti al canale. In seguito i sogni e hasta luego!